Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video preview pre-partita di una nuova partita di campionato del Milan e che partita ragazzi, ovviamente come tutti sapete sto parlando del derby di Milano che avrà luogo domani alle 18 a San Siro si prevede un San Siro tutto esaurito, 75 mila spettatori per questa partita che ovviamente è attesissima visto che anche l'anno scorso è stato per tutto l'anno praticamente un derby a distanza anche quando le squadre non si affrontavano quindi siamo qui per fare la classica nostra analisi con quote, formazioni, statistiche e curiosità ma soprattutto con la nostra lavagnetta tattica ragazzi a riguardo come vi ho detto tante volte io non sono un tattico mi diverto solo a leggere delle situazioni, a guardare quali sono le situazioni più frequenti con cui una squadra fa o subisce gol e quindi vi chiedo anche di segnalarmi se ci sono situazioni o esempi che volete portare li porterò molto volentieri in questo formato quindi vi chiedo di lasciarli nel caso nei commenti e poi siamo qui ragazzi soprattutto per la rubrica delle rubriche quello per cui tutti voi in realtà siete qui anche chi non lo sa il collometro ragazzi, il collometro che è già bello caldo già oggi che siamo alla vigilia prima di iniziare ragazzi volevo solo anticiparvi che dopo il derby che farò in live reaction su Twitch con Brogna come al solito farò un mio post partita in live su Youtube quindi staremo la circa mezz'oretta, tre quarti d'ora insieme a commentare la partita prenderò i vostri commenti, parleremo insieme della partita un po' come abbiamo fatto per chi c'era dopo la partita col Sassuolo quindi spero di vedervi numerosi, è un modo un po' diverso che volevo mettere sul mio canale per fare il post partita per non lasciare il post partita classico ma fare una cosa in live un po' tutti insieme interattiva poi se la cosa vi piace e funziona perché no possiamo pensare di renderlo sempre via un format più completo con degli ospiti, delle rubriche interne dove magari andiamo proprio ad analizzare qualcosina in live della partita che abbiamo appena visto o di altre partite o anche degli avversari o di altre partite che si stanno giocando in quel momento fatemi sapere se l'idea vi piace quote, allora ragazzi, le quote, le quote devo dire c'è tanto equilibrio oggi vi riporto anche qualche bookmakers in più rispetto al solito un Inter leggermente favorita a Milan su 2,70, 2,75, c'è anche un 2,80 Inter che parte da 2,60 quindi è proprio un'inezia però data per favorita X dato dal 3,20 al 3,40 io se dovessi fare un mio pronostico ragazzi forse direi proprio X perché mi sembra una partita su cui molti si aspettano tanti gol cose scoppiettanti e poi in realtà magari sarà più bloccata di quello che ci aspettiamo mi sbaglierò, può essere, non lo so i bookmakers danno l'over 2,5 come super probabile quindi alta probabilità che ci saranno più di tre gol al fischio finale ma andiamo con le formazioni innanzitutto cosa mi aspetto io? mi aspetto un Inter che se ha studiato un minimo queste prime partite del Milan e immagino insomma l'abbiano fatto ha visto che siamo andati in difficoltà con Atalanta e Sassuolo quando la squadra versare si è bloccata dietro aspettandoci, togliendoci quello spazio per i vari layout per i nostri giocatori di inserimento per andare a prenderci il campo alle spalle dei difensori quindi se l'Inter giocherà in questo modo mi aspetto una partita su cui noi non dovremmo fare l'errore di buttarci tutti in avanti e concedere il classico contropiede dopo due minuti perché comunque diceva una cosa interessante Suma nella pre-conferenza di Pioli di oggi diceva gli ultimi due derby che abbiamo perso li abbiamo persi dopo che abbiamo subito gol da Lautaro dopo neanche uno o due minuti ecco cosa da non fare perché ovviamente un derby lo sappiamo da non fare è facile dirsi meno che a farsi però insomma un derby va molto sul lato emozionale anche umorale subire gol dopo un minuto comunque permette alla squadra che segna di indirizzare per bene la partita e all'altra di subire forse il contraccolpo violento troppo presto ma andando proprio sulle formazioni ragazzi abbiamo un Milan abbastanza classico non si prevedono grosse novità andrà in campo un po' la formazione titolare che ha giocato anche contro il Bologna quindi Mignan Tomori Kalulu confermata ovviamente confermatissima coppia centrale anche perché Kier è comunque apparso ancora un po' in ritardo di condizioni come è giusto che sia Teo Hernandez e Calabria Tonali e Benasser in mediana De Ketelare dovrebbe essere praticamente quasi sicuramente il titolare sulla tre quarti neanche a dirlo Leao e Giroud anche perché davanti al posto di Giroud non abbiamo alternative anche se probabilmente in realtà Rebic e Orighi da quello che so potrebbero recuperare ma non per partire titolari Messias dovrebbe essere l'ala destra titolare di questa partita ragazzi Inter che risponde con Lautaro e Dzeko in attacco quindi mancherà come lo sappiamo insomma come sappiamo Lukaku dovrebbe vincere il ballottaggio di Marco per la fascia sinistra quindi dovrebbe giocare lui gli altri sono un po' insomma i titolari soliti ragazzi quindi non sto a elencarveli uno uno vi lascio qui nella grafichetta andiamo a vedere chi sarà la squisita persona che arbitrerà il derby di Milano il grandissimo celeberrimo simpaticissimo persona pazzesca arbitro Kiffi un applauso sento che state facendo anche voi l'applauso e se lo merita se lo merita se lo merita l'arbitro Kiffi tra l'altro vaga somiglianza con Terence Hill che lo rende tutto sommato ancora più simpatico e piacevole se posso dire devo dire che i precedenti tutto sommato non sono male con Kiffi perché sarà il nono scontro che lui arbitrerà che coinvolge il Milan e nei precedenti sei vittorie per il Milan un pareggio e una sola sconfitta con lo Spezia piccola nota vorrei aggiungere questa volta all'area diciamo alla rubrica arbitrale nominando anche chi sarà il direttore Var di questa partita visto che è un derby andiamo un po' più in approfondimento e sarà Di Paolo che non ha mai diciamo gestito il VAR per una partita del Milan quindi è la prima volta che incontra i rossoneri Iler Azzurri invece li ha già incrociati il furbettino pensate che era il VAR contro la Juventus nella finalissima di Coppa Italia dove aiutò l'arbitro Valeri ad assegnare non uno ben due calci di rigore all'Inter come ricorderete quindi caro Di Paolo mi raccomando vabbè a noi non ci ha mai seguito può essere che lui sia uno che assegna rigori così però intanto non fatemi venire strane idee bravissima persona Di Paolo bravissima persona anche il signor Chiffi andiamo avanti per favore andiamo avanti e adesso squillino le trombe suonino i tamburi perché è arrivato il momento del collometro vabbè ragazzi il mio collo già rigido già iperattivo per questa sfida è ovvio che se dovesse identificare in una persona sola in una persona sola la persona ovviamente un po' più fastidiosa in questo derby di Milano ovviamente la persona che più mi fa rogidire il collo ragazzi qui è abbastanza scontata è Akan Cialanoglu Cialanoglu che lo sappiamo ha un po' il dente avvelenato col Milan dopo l'anno scorso ha maggior ragione sfotto incredibili per lui immagino ce ne saranno altri dallo stadio insomma che arriveranno a lui e quindi me lo immagino carichissimo e con voglia di rompere le palle speriamo non le rompa troppo andiamo ragazzi e adesso finalmente la parte che preferisco cioè l'analisi tattica andiamo subito ad analizzare qualche situazione in questo caso in contropiede un contropiede dell'Inter che ha portato al primo gol contro la cremonese l'altra sera qui la cosa da notare insomma è della cosa che mi aspetto facciano anche con noi soprattutto vedendo come battiamo i calci piazzati in questo caso palla persa da calcio d'angolo ma tutto male un po' stile Milan devo dire che si sono ispirati secondo me i rossoneri quelli della cremonese su questo corner guardate dell'Inter quanti neri partono a tutta velocità sono 4 più il giocatore che è già fuori 5 giocatori dell'Inter che partono a manetta verso l'area della cremonese che si fa trovare molto scoperta e subirà poi il gol vedete qui come accompagnano l'azione qui sono in 4 più il quinto dietro che partono alla volta dell'area della cremonese ci arriveranno e poi sarà Dzeko a concludere e Correa a rivattere dentro di Tappin sulla parata di Radu però da fare molta attenzione ragazzi perché se proprio visto che questa è una situazione studiata sono partiti a tutta velocità su questa azione ecco qui andiamo nella situazione cardine di tutta l'analisi tattica ragazzi sta roba la fanno sempre praticamente tutti i gol l'Inter li fa in questo modo giocatore in questo caso Bastoni qui è interessante anche notare ecco una chiave tattica che sarà Bastoni che si sgancia e arriva praticamente sulla linea dei centrocampisti guardate Bastoni in questo caso è più avanti di Barella è sull'asse di Cialanoglu ed è lui che appunto si sgancia e va a mettere indisturbato il cross dentro in questo caso andando a mettere il cross dentro dove lo va a mettere sempre 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 sul secondo palo sul secondo palo si inserisce sempre 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 Dunfris da una parte di Marco eventualmente o insomma l'altro esterno dalla parte opposta Dunfris però è quello che fa più spesso questa cosa lui si butta sempre sul secondo palo e o va a concludere la rete o va a fare una sponda dentro l'Inter quest'anno l'ha fatto mille volte guardate qua in questo caso è Di Marco quindi non Bastoni che ha il possesso palla però la situazione è la medesima in questo caso non è Dunfris ma è Darmian che si propone sul secondo palo e la palla puntualmente gli arriverà ragazzi lo fanno sempre e noi è una cosa che soffriamo tanto questo inserimento dei quinti uno che crossa e l'altro che si inserisce la soffriamo tanto ennesima situazione in cui l'Inter fa questa cosa guardate qui cross sempre di Di Marco sul secondo palo chi c'è da solo Dunfris che arriva sempre un po' in sordina un po' senza farsi vedere quasi di nascosto e poi pam si inserisce questa però è la situazione anche un po' al contrario nel senso che l'Inter lavorando molto con i suoi esterni dietro in fase difensiva a sua volta ha sofferto questa situazione lo vediamo con la Lazio dove qui un po' è la difesa che non fa il fuorigioco un po' è Di Marco secondo me più colpevole che non segue Felipe Anderson in questo caso attaccate dalla Lazio sta di fatto che proponendosi molto in avanti di Marco a volte dietro non è perfetto nella marcatura e quindi questa può essere una chiave andare a cercare anche noi di controcolpirli sulle corsie esterne come ha fatto la Lazio in questo caso ennesima situazione in cui l'Inter fa quella roba di prima questa era rimasta indietro ve la metto comunque dove poi qui Dunfris avrà una grande occasione per segnare Provedel eviterà con un paratone il gol però la situazione è sempre quella la fanno a memoria se riusciamo a chiudergli questa possibilità secondo me gli chiudiamo tanti dei loro sbocchi offensivi perché anche in questo caso cross dall'altra parte inserimento di Dunfris che nessuno calcola e Dunfris non capisco come mai riesca sempre ad andare a colpire così indisturbato ecco spero spero che Pioli abbia messo non una non due ma tre pezze a questa situazione perché se no lo sappiamo può fare molto male questa situazione invece in fase difensiva che invece l'Inter secondo me può soffrire abbastanza e vi faccio vedere il perché in questo caso come sappiamo Teo Hernandez spesso e volentieri taglia in mezzo al campo portando palla si butta dentro nello spazio però non lo può seguire ovviamente in questo caso Darmian perché Darmian è diciamo a uomo su Leao e Leao lo porta molto all'esterno obbligandolo diciamo ad allargare le maglie della difesa e quindi chi deve andare a prendere Teo Brozovic quindi lo vedete in questo caso Brozovic fa una corsa tentando di raggiungere Teo che si è infilato in mezzo per andare a chiudere lui perché non c'è nessun altro in questo caso che può andare a prendere Teo Hernandez quindi una chiave tattica potrebbe essere anche mettere qualcun altro su Brozovic che a sua volta gli possa partire in fase offensiva in maniera tale che Brozovic avrà anche un altro giocatore a cui pensare che ne so un Tonali me lo vedo che si inserisce nello spazio e quindi a sua volta anche se poi ovviamente anche l'Inter prenderà la sua contromisura su questa situazione però quindi Teo potrebbe trovare quella corsia interna che a lui piace tanto ecco questa ultima situazione invece da andare a prendere in esame l'imbucata per Lautaro questa è una cosa a cui dobbiamo stare attenti l'abbiamo sofferta tanto anche nell'ultimo derby di Coppa Italia questa è la giocata classica sempre dall'esterno perché arriva sempre da lì imbucata dentro taglio di Lautaro che fa benissimo questo movimento ed è un attimo se te lo perdi Lautaro lì ti purga in questo caso ce lo siamo persi e il gol l'abbiamo subito ecco questa è una situazione a cui dovremo stare attenti soprattutto se la partita come abbiamo detto come ci immaginiamo sarà di ripartenza per l'Inter che potrebbe trovare questi spazi queste imbucate facili allora ragazzi la partita di sabato sarà la 177esima volta che Milan e Inter si affrontano in Serie A e il bilancio come vabbè abbastanza risaputo è a favore dell'Inter ben 67 successi nerazzurri contro 53 vittorie del Milan diciamo che abbiamo avuto anche parecchi anni bui su cui loro hanno costruito questo record che dobbiamo assolutamente in questo questo trend che dobbiamo assolutamente invertire pensate che il Milan non vince un derby casalingo dal 2016 e se ricordate ragazzi insomma nel 2016 abbiamo vinto 3 a 0 con gol di Alex Bacca e Niang la creme della creme dei nostri anni migliori ora io sono fan dei grandi numeri come l'anno scorso ho detto non possiamo sempre fare cagare nei derby prima o poi lo vinceremo siamo andati a vincere al ritorno in casa dell'Inter il derby forse più importante della stagione scorsa spero che riusciremo anche insomma a centrarla una vittoria in casa visto che manca la 2016 che non è poco ragazzi cioè non è poco quindi me lo auguro i precedenti comunque narrano l'ultimo derby insomma giocato di un 3 a 0 per l'Inter in Coppa Italia partita che ci ricordiamo bene poi c'è stato lo 0 a 0 di Coppa Italia dell'andata partita a Scialba mi ricordo che arrivò poco dopo l'altro derby vinto quindi forse squadre anche un po' scariche erano in un momento di forma entrambe non molto buono l'ultimo in campionato l'ha vinto il Milan in casa dell'Inter 1 a 2 il famoso derby del si è girato Giroud 1 a 1 all'andata e poi se torniamo indietro ancora c'è ancora quel 3 a 0 dell'Inter sempre in casa nostra ecco ragazzi spero vivamente che una volta tanto saremo anche noi a dare una bella stoccata bella convincente anche se devo dire che secondo me le squadre arrivano davvero molto in equilibrio un equilibrio precario verso questo derby piccola curiosità per andare un po' lontano dai soliti numeri da campo nel post partita Cracco tifoso tifosissimo del Milan farà un post partita con uno show cooking io ragazzi spero vivamente per chi ha pensato a questa iniziativa di marketing che il derby vada bene perché se no non vorrei mai tirassero le uova ma giusto si fa per scherzare ragazzi ovviamente però mi stupisce che non sia nel pre ma sia nel post partita perché lì ti deve andare bene una partita se no rischi che vabbè poi non so neanche come si svolgerà in realtà questa cosa se sarà più televisiva o più da stadio ho solo letto l'ho voluta riportare così perché era simpatica ragazzi queste sono un po' le situazioni le cose che ho preso in esame ovviamente sono curioso di un vostro parere di vostre opinioni di considerazioni in questa vigilia caldissima del primo derby di Milano di questa stagione detto questo è tutto tra l'altro in questi giorni ragazzi uscirà anche un video bello potente sul derby degli youtuber a cui ho partecipato ho fatto anche un bel golletto all'Inter e quindi vi metterò tutto in un video che ho fatto apposta io con immagini inedite dove vi porterò in campo con me lo vedrete a brevissimo ma è tutto ragazzi ci vediamo al prossimo video